musica 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 se non passare qua completo ha quedato in shock è un momento che la notizia che da conosci con il signor John Kelly di cuorevo di bombero ha fallato già l'uno ha stato stato inteso in onda con gran quantità di famiglia amico e colleghi non stavano presente per essere qui di spiriti di gente stavendo basta pensare e per i dati sono più grandi mi sono una prova di diricare un po' di parole e la famiglia sono più cruciali il suo professionalismo e la sua dedicazione però si incontra che ci sono amistate non 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 ma non 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 Grazie a tutti.